Avevo questo film in lista che si chiamava Christmas Bloody Christmas e ho visto che durava poco, la media voto che c'è in giro non è esaltante poco sopra il 5 su IMDB, i voti degli spettatori, però dico dai dura poco, guardiamocelo e il film inizia con una coppia, lei che è la titolare di un negozio di dischi, di vinili e lui che è il suo dipendente, lui forse ha qualche anno in più di lei però tra i due c'è una grande intesa, sono molto amici, poi lui ci prova con lei ma in una maniera anche simpatica, non pesante, di quelle che se poi dici sì o dici no non cambia niente, il rapporto resta uguale e i due decidono di andare a bere dopo aver chiuso il negozio, dopo la vigilia di Natale bisogna andare a ubriacarsi un po' insieme e nel frattempo discutono di tutto discutono di qual è la miglior canzone di Natale, di qual è se è meglio Cimitero 21 o seguito Cimitero 22, se è più interessante vedere Christmas Story o Black Christmas di Bob Clark insomma dialogo molto intenso, molto fitto come è inusuale anche in un horror e questo mi faceva ben sperare poi per lo sviluppo del film cosa che avviene quando i robot meccanici prodotti da un'azienda, quindi raffiguranti Babbo Natale iniziano ad avere dei problemi, diventano violenti e vengono ritirati sul mercato ma uno di questi non viene ritirato e inizia a prendere un'accetta e inizia a uccidere le persone e lì la tragedia si consuma, cioè un film totalmente inutile, noioso, senza un briciolo di paura una noia mortale che arrivare alla fine, quando mancava mezz'ora dico ma cosa cavolo può ancora succedere? cioè sono tutti gli amicidi banalissimi, non c'è un minimo di tensione, c'è Babbo Natale che entra con un'accetta e la pianta in testa qualcuno, alcune scene sono così confuse che non si capisce niente, è un film che la prima 20 minuti era da 7 in pagella poi sfiora il 3 quindi raggiunge un 4 globale ma non oltre non, 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 non